Grazie ovviamente la senatrice Castellone per aver accettato il nostro invito ad agenda. Benvenuta senatrice, buona domenica. Buongiorno a voi e grazie dell'invito. Grazie a lei. Allora insomma la giornata di ieri è stata segnata molto dalle agenzie e dalle reazioni a questa lettera. Allora facciamo il punto in apertura subito con la nostra Iana Gagliardi e poi senatrice da lei per commentare quel che sta accadendo all'interno del movimento. Iana. Anche perché buongiorno di nuovo certamente i commenti sono interessanti anche perché quello che possiamo appunto vedere lo accennavo prima ma è sempre più evidente nel corso diciamo della giornata e della mattinata e come a seconda delle aree diciamo di riferimento del movimento arrivano arrivino diversi commenti alla lettera di Di Maio e alla reazione alla lettera di Di Maio. Molto semplicemente quello che è successo lo hai accennato è una però di fatto spaccatura nel senso che nella lettera di Di Maio i toni erano assolutamente moderati e garbati ma si faceva chiaro riferimento a una campagna diciamo contro la persona che in qualche modo c'era stata a ridosso delle elezioni del capo dello Stato e la persona diciamo anche se non dichiarato era appunto quella di Di Maio in quanto evidentemente portatore di altre idee di altre ipotesi o di forse altre idee su come gestire la situazione in ogni caso si faceva riferimento a questo e si faceva riferimento al fatto che nello statuto nuovo del movimento si fa proprio si sottolinea come invece sia importante il rispetto della persona. La reazione, la risposta ufficiale del movimento e quindi di Conte è molto dura poche parole per dire che Di Maio ha fatto bene a fare quello che ha fatto e cioè appunto a dimettersi del resto aveva praticamente creato soltanto tensione negli ultimi giorni e non era il caso di danneggiare diciamo il movimento e la sua unità e la sua unità di intenti perseguendo di fatto questo il contenuto della risposta interessi personali quindi una risposta durissima. Adesso appunto c'è il movimento che si divide fra chi dà ragione a uno e chi dà ragione e solidarietà all'altro e di Maio appunto. In tutto questo Grillo, anche Grillo è intervenuto subito però è un intervento non intervento nel senso che in pratica ha detto il movimento deve uscire dagli ardori giovanili, lo aveva anche già detto fra l'altro giusto mesi e mesi fa quindi tornato su questo concetto uscire dagli ardori giovanili e crescere, diventare grande, insomma diventare più maturo, più posato. Nessun riferimento a nessuno ma invece poi un chiaro riferimento a un'altra scottantissima questione all'interno del Movimento 5 Stelle e quindi la questione della durata del mandato. Anche questo sarà uno dei temi sul tavolo che dovranno essere affrontati dai 5 Stelle che appunto però li affrontano in questa posizione. Di Maio da una parte, Conte dall'altra pur mantenendo al momento ancora l'unità e dicendo che il Movimento 5 Stelle ha fatto tante cose e continuerà a farle e l'importante appunto è marciare uniti verso le cose che servono al bene del Paese. Staremo a vedere come si svilupperà, ricordiamolo, con questo poi ci salutiamo che però il Movimento 5 Stelle è così agitato diciamo al suo interno però è il partito più pesante dal punto di vista numerico all'interno del Parlamento. A voi. Grazie Iana. Allora Senatrice ci dà una sua lettura di questa lettera? Io credo che questa lettera segni un importante passo avanti verso quello che poi è quello che chiede anche Beppe e cioè un sano confronto che deve esserci, che ci sarà, che deve essere costruttivo e deve rimettere al centro i temi perché alla fine credo che davvero ai cittadini di queste dinamiche interne che seppure sono fisiologiche a tutti i partiti aggiungono poi ben poco all'agenda di un governo, al programma delle cose da fare interessi davvero poco. Quindi accolgo invece con molto favore quello che è stato l'incontro del Presidente Conte con il Presidente Draghi. Finalmente si torna a parlare di temi, anche nel post di Beppe si parla di temi che per noi sono identitari e credo che da questo bisogna ripartire. La richiesta di un confronto interno, un'assemblea degli iscritti al Movimento è qualcosa che da un po' di tempo viene chiesta anche da prima dell'elezione del Capo dello Stato. Ci sarà a breve un confronto in tal senso? Il confronto ci sarà, è stato più volte annunciato e del resto del confronto, della partecipazione, noi abbiamo fatto un pilastro anche in questo nuovo corso del Movimento. Anche le recenti elezioni del Presidente della Repubblica sono state per il nostro gruppo un'esperienza partecipata. Numerose sono state le assemblee che abbiamo fatto per coinvolgere tutto il gruppo parlamentare, abbiamo creato una cabina di regia che affiancava il Presidente Conte nelle trattative e quindi questo è il nostro modo di lavorare e così continuerà ad essere. Dice il Presidente Conte, vogliamo parlare di patto con i cittadini, non di patto di fine legislatura. Ecco, a proposito di questo invito che chiaramente è arrivato dal Capo dello Stato Mattarella, cioè il fare in modo che questi mesi non si trasformino in una perenne campagna elettorale, slogan elettorale da parte dei partiti, ma fare concretamente davvero ciò che il Paese necessita, non buttare questi mesi, non sprecarli. L'ETA ha lanciato un patto in tal senso a tutte le forze politiche. Il rapporto con il Partito Democratico? Il rapporto con il Partito Democratico è molto buono e costruttivo e io devo dire che di patto per i cittadini, noi in realtà abbiamo parlato ancora prima del discorso del Presidente Mattarella, quando invece si ragionava di nuovi governi, di rimpasti e cose del genere. A noi il termine patto di fine legislatura, patto di legislatura, non piaceva perché sembrava mettere al centro la permanenza all'interno del Parlamento, la permanenza nel governo. Per noi invece è importante in questo ultimo anno di legislatura mettere al centro i temi e le riforme che servono ai cittadini. E io proprio nell'HP Gruppo che abbiamo tenuto in Senato giovedì, ho chiesto al Ministro di Inca di farci avere quanto prima, che è il Ministro per i rapporti col Parlamento, di farci avere quanto prima il cronoprogramma del governo per realizzare gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Residenza. Che cos'è questo Piano Nazionale? È questo grosso programma di investimenti pubblici, grazie ai fondi che sono stati stanziati dall'Europa, che ci permetterà di ammodernare questo Paese. Per avere questi fondi però bisogna raggiungere degli obiettivi. Entro giugno si devono raggiungere circa 45 obiettivi per avere i prossimi 24 miliardi. Entro dicembre gli altri 55 obiettivi per ulteriori 21 miliardi. Se il governo riesce a far arrivare in anticipo un cronoprogramma di come intende fare queste riforme, noi potremo inserire quelle che sono delle priorità per il Parlamento. Perché è chiaro che nell'ultimo anno di legislatura non riusciremo a far approvare delle leggi a partenza parlamentare che poi possano fare il doppio passaggio tra Camera e Senato. I tempi sono molto stretti eppure ci sono ancora tante cose da fare perché in questa emergenza il ruolo del Parlamento è stato certamente mortificato. Per dare valore al ruolo del Parlamento e per permetterci anche di lavorare, e questo è un appello che ha fatto anche il Presidente Mattarella nel suo discorso, cioè dare più tempo al Parlamento per incidere in quella che è l'azione legislativa che è propria. E quindi davvero spero che insieme a tutte le altre forze politiche possiamo individuare dei temi prioritari che poi insieme si raggiungono con riforme importanti in quest'ultimo anno di legislatura. Che poi sono tutte in realtà in gran parte contenute nel nuovo, nel piano nazionale di ripresa e resilienza in cui si parla di riforma del mondo della scuola, della sanità, del lavoro. Sono tutte le priorità che vengono fuori anche dagli incontri, dall'incontro che c'è stato tra il Presidente Conti e il Presidente Draghi, dal discorso di Letta. Quindi almeno tutte le forze politiche sembrano convergere su quelli che sono i temi prioritari per questo Paese in questo momento storico di ripartenza. Senatrice, tra i temi prioritari per il Movimento c'è quello, lo sentivamo anche prima nel colgamento da Palazzo Chigi della nostra Iana Gagliardi, del nodo della durata del mandato. Su questo ci sarà anche un confronto nelle prossime giornate? È chiaro che ci sarà e uno dei nostri, come lei ha detto, temi identitari andrà aperta una riflessione. Punto. Su questo, grande diplomazia e attenzione nel dosare le dichiarazioni che riguardano questo nodo e da mesi, insomma, resta sul tavolo. Senta, le dichiarazioni di Beppe Grillo nel... Guardi, è chiaro che io, è chiaro che io, la mia posizione e la mia idea, ma sarebbe, non rispetterei il mio ruolo di capogruppo se non aspettassi di aprire il confronto con il gruppo e con la nostra comunità. E questo confronto è prevedibile che si apra in settimana, senatrice? Non so se si apre in settimana, in settimana, intanto noi abbiamo degli appuntamenti importanti con il gruppo a partire da domani in cui faremo un'assemblea congiunta nella quale parleremo di super bonus e delle modifiche che si stanno apportando alla cessione dei crediti. Come le ho detto, vogliamo ripartire dai temi, da queste urgenze e anche dalle proposte che il governo ha depositato in Parlamento e che, a nostro avviso, non sempre sono in linea con quella che era poi la direttrice che avevamo segnato anche in tema, ad esempio, di super bonus. Senta, senatrice, tra i temi che il Movimento 5 Stelle ha portato sul tavolo di uno degli ultimi consigli dei ministri, caro Bollette, e il tema è supportato anche dalla Lega, quello dello scostamento, la richiesta di uno scostamento di bilancio. Assolutamente sì, noi già in legge di bilancio abbiamo messo al centro del tavolo e delle priorità quella del caro Bollette. Sono stati stanziati diversi miliardi, ma non erano sufficienti e quindi da tempo chiediamo al Presidente Draghi quanto prima di approvare un nuovo scostamento di bilancio. In realtà, quest'anno è stato un po' timido nello stanziamento di nuovi fondi. Se pensiamo che nel 2020, col governo Ponte 2, abbiamo stanziato ben 130 miliardi nei vari scostamenti di bilancio, legge di bilancio, perché riteniamo fondamentale dare respiro e supporto alle tante attività economiche che sono state messe a dura prova da questi due anni di pandemia. Senatrice, nell'incontro che c'è stato al quale faceva riferimento tra il Presidente del Consiglio Draghi e il Presidente del Movimento 5 Stelle, pare che Conte non sia stato tenerissimo con il suo successore. Gli ha anche spiegato evidentemente quelle che sono state le motivazioni per cui la scelta non è caduta sul suo nome per l'elezione del Capo dello Stato. E' chiaro, noi l'abbiamo sempre detto in questo percorso per l'elezione del Presidente della Repubblica, che per noi era fondamentale garantire la stabilità del governo, perché non potevamo permetterci neppure pochi mesi di pausa per attuare il PNRR, per continuare a dare risposte alle esigenze dei cittadini. Quindi non era, come è stato detto, un veto alla persona, ma era soprattutto una necessità di garantire la stabilità. E io credo che in questo processo di elezione il Presidente del Movimento 5 Stelle abbia fatto un ottimo lavoro, abbia garantito alla Presidenza della Repubblica una persona che si è dimostrata essere davvero garante di quelli che sono i principi costituzionali e che, insomma, gode di un'altissima fiducia da parte non solo del Parlamento, ma di tutti i cittadini. Senta, Senatrice, uno dei grandi temi del manifesto Mattarella, lo abbiamo chiamato così, è quello della giustizia in tempi rapidi. Su questo chiaramente non si è tutti allineati all'interno della maggioranza e immagino anche per voi questa priorità per il Paese. È proprio così, in realtà noi abbiamo una riforma del CSM depositata già dai tempi del governo Conte II, credo fosse l'agosto 2020, in cui veniva approvata in Consiglio dei Ministri la cosiddetta riforma Bonafede, che conteneva anche la riforma del CSM, che è quella auspicata dal Presidente Mattarella. Mi sembra di capire che su alcuni punti, in particolare la divisione tra carriera politica e magistratura, ci sia convergenza di tutte le forze politiche. Quindi speriamo che presto questo testo arrivi in Parlamento. Noi abbiamo la scadenza che è stata data dalla Corte Costituzionale di maggio 2022 e quindi spero davvero che riusciamo a rispettare questi termini. La reazione di Beppe Grillo ieri declinata nell'indicazione di queste 5 stelle polari, leggerezza, rapidità, esattezza, visibilità, molteplicità, le 5 stelle polari da seguire per Beppe Grillo e poi questo post, Cupio Dissolvi, in cui sostanzialmente Beppe Grillo evidenzia, a commento a margine di questa lettra, di queste dimissioni, che il necessario è saper rinunciare a sé, per il bene di tutti, che è anche poter parlare con la forza di una sola voce, ma se non accettate ruoli e regole, restano solo voci di vanità, che si e ci dissolvono nel nulla. Beppe si conferma un visionario e io l'impegno che prendo da capogruppo è quello di coinvolgerlo sempre di più anche proprio nella vita e nella discussione politica del gruppo, perché credo che la sua visione sia sempre rivoluzionaria e dia respiro a quella che è anche la nostra prospettiva. Le stelle polari che ha indicato in realtà sono quelle su cui stiamo lavorando e quindi quando parla di leggerezza intende anche l'economia circolare, la nostra visione di ambiente che parte dalla transizione ecologica, quando parla di rapidità intende la partecipazione dei cittadini alla vita anche politica, quando parla di molteplicità si riferisce ai referendum, insomma alla partecipazione e quindi queste stelle polari noi le abbiamo sempre seguite in questi anni, abbiamo disegnato le nostre proposte di legge seguendo questi principi e anche dalle indicazioni di Beppe ripartiremo certamente con più entusiasmo con più entusiasmo di prima. Senta senatrice, dice Di Maio io sarò tra le voci che sono pronte a sostenere il nuovo corso mantenendo la libertà di alzare la mano e dire cosa non va bene e cosa andrebbe migliorato. Secondo lei, in primis, cosa andrebbe migliorato? Allora, io ritengo necessario che il Movimento finalmente completi questo percorso di organizzazione che è partito col Presidente Conte da poco sono stati individuati i responsabili e i partecipanti ai vari comitati che si occuperanno dei diversi temi. Serve ancora la struttura territoriale, quindi i responsabili territoriali, perché poi la nostra forza sono sempre stati gli attivisti, i cittadini, coloro che sui territori incarnano quelle che sono le battaglie, i principi che il Movimento 5 Stelle porta poi nelle istituzioni e su cui scrive e disegna le proposte di legge. Quindi credo che l'urgenza sia questa, completare la struttura e partire cercando davvero di raccogliere dai territori le migliori eccellenze di questo Paese. Mai come in questo momento, dopo la pandemia, i cittadini sono volenterosi e vogliono dare una mano anche alle istituzioni, alla vita politica, mettendo a disposizione degli altri delle proprie competenze e il proprio sapere. E questo io credo debba essere il punto forte e la caratteristica del Movimento 5 Stelle che vede la politica non come una professione ma come un servizio. Questo è quello che ha ispirato anche me quando nel 2018 ho deciso da medico che aveva sempre fatto ricerca oncologica di mettermi a servizio delle istituzioni. Senatrice Maria Domenica Castellone io la ringrazio molto per essere stata con noi le auguro un'ottima domenica e un buon lavoro soprattutto un buon confronto evidentemente all'interno del Movimento. Grazie mille Senatrice. Grazie Lavinia grazie a voi e buon lavoro. E a presto.